Non si ferma l'ondata di sbarchi sulle coste calabresi. Dopo ben 1144 migranti giunti la scorsa domenica nello scalo pitagorico a bordo della nave d'attilo della Capitaneria di Porto, altri 260 sono sbarcati ieri nel porto di Crotone. Più di 2000 quindi disperati del mare accolti nella nostra regione, per la maggior parte provenienti dal Marocco, Siria, Tunisia, giunti nello scalo pitagorico a bordo di tre motovedette. Tra loro anche due minori non accompagnati che sono stati affidati al comune di Crotone. La prefettura ha coordinato le operazioni di prima accoglienza messe in campo dal personale del comune, delle forze di polizia, della Capitaneria, così come dell'azienda sanitaria provinciale, della Croce Rossa e della Misericordia. Intanto, secondo il piano di riparto del Ministero, 59 di loro verranno ospitati al Cara di Isola di Caporizzuto, gli altri saranno poi trasferiti nei prossimi giorni a gruppi di 50, rispettivamente in Campania, Piemonte, Toscana e Veneto. Grazie